Enrico Ruggeri, senatore e capitano di questa nazionale italiana cantante? Capitano e bella, senatore un po' meno da tutti i punti di vista, politico e di età, però se senatore vuol dire uno... Più esperto, dai! Dai, bravo, bravo, grazie, ti sei salvato, ciao a tutti! Un motivo in più appunto per essere qui, oltre a quello della solidarietà, quello di essere un amico di Progetto V. Beh sì, ma noi siamo molto vicini a persone che lavorano sodo, con limpidezza morale e con voglia di fare, per cui ci sono degli amici storici della nazionale cantante.